La Sandra Bate rende noto che l'ufficio Tisseramenti della divisione Calcio 5 ha rigettato il deposito di trasferimento della terra Tiago Bissoni, a loro dire, per un ritardo quantificabile in una manciata di secondi. Certi, del nostro operato, il club si riserva di tutelare i propri interessi nelle sedi più opportune. Questa è la nota con la quale la società avelinese ha reagito alla decisione comunicata da Piazzale Framino di non formalizzare il trasferimento di Tiago Bissoni al club Erpino dopo che la trattativa con il petalaccavato per il passaggio del giocatore alla squadra di Piero Basile era stata definita praticamente sotto la bandiera a scacchi del futsalmercato di riparazione. Un'operazione che le due società avevano definito a pochi minuti prima delle 19 del 23 dicembre scorso. Termine ultimo, stabilito per la turata delle contrattazioni di riparazioni. Tempistiche che a quanto pare non sarebbero state sufficienti per perfezionare l'iter del passaggio del giocatore da una squadra all'altra. Niente a velino quindi per Bissoni che adesso avrà due chance professionali da intraprendere o tornare a Pado per completare la stagione con il petalaca oppure valutare la possibilità di salutare momentaneamente il bel paese per far ritorno magari in Brasile dove Tiago ha giocato a lungo prima di trasferirsi in Europa. Non resta che attendere anche le mosse del petalaca per capire cosa riserverà il futuro almeno prossimo al difensore. Il tutto mentre la Sandra Bate venerdì ore 16 scenderà in campo per il primo mezzo del 2023 contro il Monastir in trasferta.